Qual è l'oggetto di questo sit-in, anche alla luce di una sentenza uscita poche ore fa? Da anni stiamo chiedendo di guardare a fondo cosa accade negli apparti delle nostre ASA abruzzesi. I lavoratori e operatori sociosanitari, assunti con le cooperative, da anni reclamano un percorso che gli permetta di essere lavoratori alle dipendenze dell'ASA. Non vogliono farlo a tempo indeterminato, anche solo a tempo determinato, ma c'è bisogno di operatori sociosanitari. A maggior ragione con la sentenza della scorsa settimana del Tribunale di Chieti che ha di fatto riconosciuto un utilizzo irregittimo della flessibilità nell'orario di lavoro applicato ad alcuni di questi lavoratori delle ditte esterne, in particolare quelli impiegati nei servizi di pulizia e mensa che si sono visti riconosciuti solo da un tribunale il loro diritto ad avere un orario di lavoro dignitoso. Ecco, siamo qui sotto perché quando arrivano i tribunali significa che qualcun altro non ha adempiuto le sue funzioni. Evidentemente c'è una responsabilità da parte dell'ASA perché da quattro anni noi segnaliamo queste difformità negli apparti e c'è poi una mancanza di presa di posizione da parte della politica. All'assessore Verì abbiamo inviato un avviso pubblico per la stabilizzazione di questi lavoratori e dal 21 novembre che questo avviso è stato inviato non abbiamo ricevuto risposta. Il giorno dell'insediamento dell'assessore ci aveva detto che avrebbe chiuso la vicenda vergognosa degli apparti nelle nostre ASA, siamo nel 2021 nel bel mezzo di una pandemia dove abbiamo bisogno di rinforzare il servizio sanitario regionale e nulla è accaduto.